Il centro estivo si lancia anche il centro estivo, è la prima volta, quindi come funziona? Allora abbiamo avuto modo di riferire questo centro estivo alle famiglie di tutti questi comuni, quindi il mito si va aperto a tutti per un periodo che va appunto dalla fine scuola, quindi dal 12 giugno all'8 settembre, con orari abbastanza lunghi, quindi dalle 7.30 alle 10.30 al venerdì. Siamo aperti anche a varie disponibilità in base anche alle famiglie, quindi cerchiamo di dare possibilità a chi lavora, a chi ha voluto passare a un momento diverso il proprio figlio, la possibilità di divertirsi insieme a noi. Valentina, per le iscrizioni come funziona? Allora funziona in questo modo, è possibile andare sul nostro sito www.associazioneneverland.it e cliccando sul link centro estivo ci sarà la possibilità di scaricare sia la brochure informativa, che noi abbiamo distribuito ovviamente nella scuola eccetera, quindi con tutti i prezzi, dettagli, tutto quello che dovete sapere, e in più ci saranno i moduli proprio di iscrizione scaricabili, questo perché chi non ha possibilità di venire prima qua può scaricare, compilare e portarci l'iscrizione. Viene fatta ovviamente cartacea per la questione di gestione, è più semplice tutto lì, però è possibile sul sito trovare tutte le informazioni. Ci saranno addirittura due gite? Sì, verranno organizzate due gite presso il Safari Park di Pombia e presso lo Zoom di Torino, dove appunto organizzeremo le gite a pagamento, però aperte anche ai familiari, ai genitori, ai fratelli, insomma a chiunque vuole partecipare. Speriamo, dai, sì. Ok, grazie mille.